Nel match della Pol Scudetto serie di Il Pineto allo stadio Mariani Pavone vince per 3 a 1 e vola nelle storiche semifinali. Dopo il primo tempo chiusosi con le marcature splendide di Della Quercia, Forgione e Allegretti per i Biancazzurri nel secondo e Pattarello a riaprire la contesa. Il match incomincia con un euro goal di Capitano Riccardo Della Quercia, il numero 20 dopo un'azione insistita prende la mira e fucila Trombini per il vantaggio locale. I Biancazzurri vogliono subito il raddoppio, assist perfetto per Emili ma Trombini risponde da campione, ancora gli abruzzesi protagonisti su corner di Emili, Nonni in corna sul fondo. Il meritato 2 a 0 arriva al minuto 25, Forgione sigla dopo la repte pesantissima contro l'Avastese, il gol del raddoppio. I padroni di casa vogliono mettere in ghiacciaia il match, Allegretti autarchico, Sicile fa la cosa più difficile ma incredibilmente cessina tutto sul fondo. Il Pineto detta legge della Quercia, tiro smanacciato da un attentissimo Trombini, poco male per la squadra del presidente Silvio Brocco, il calcio di punizione Fulminio. Trova Allegretti questa volta, il numero 16 è impeccabile, con un tocco liftato, confessiona il Tris. Nel finale azione insistita del Cavalino, Mercorelli però pone fine al primo tempo sul parziale, il 3 a 0. Nel secondo tempo la partita recita sempre il medesimo copione, Emili ricambia il favore ad Allegretti, alto di poco sopra la traversa. Come sempre la legge del calcio colpisce ancora il neo entrato, Patrello si accentra con il mancino, toglie le classiche ragnatelle dal 7 e riapre tutto. Il Pineto non ci sta su cross di Emili, sale in cielo, Nonni ancora una volta sul fondo, sempre gli abruzzesi in forma smagliante. Spingono della quercia, petto di Maio, ma è entrato Giambè, accarezza solamente il palo. Nel finale spinge il Cavalino, Patrello ancora una volta, innesca il mirino, Mercorelli super, smanaccia in corner, il numero 1. E strepitoso ancora una volta con un colpo di Reni a negare il 3 a 2 di Damiani. Il Pineto vince per 3 a 1 e vola nelle storiche semifinali di Paul Scudetto. Il Pineto vince per 3 a 1 e vola nelle storiche semifinali di Paul Scudetto.